Avere l'oro sotto i piedi è saprecci soltanto inciampare sopra. E' più o meno questo il paradosso che da decenni accompagna Gela. Anche nelle ultime ore, dopo l'avvio delle operazioni dei fondali di contrada a Bulara con il robot Hublot, sono emersi nuovi ritrovamenti, addirittura un fucile ed un elmetto militare risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Le attività sono condotte da tecnici regionali della sovrintendenza del mare, seguendo quasi un'eredità lasciata dall'ex assessore Sebastiano Tusa, morto negli scorsi mesi a causa di un terribile incidente aereo, come ricordato da Claudio Di Franco. La docente universitaria Alessia Mistretta, incontrando il neosindaco Luccio Greco al Museo di Molino a Vento, gli ha ufficialmente chiesto di valorizzare il patrimonio archeologico che la città ha in dote, ma che non è stato mai veramente sfruttato o messo in risalto, in una struttura museale già di per sé non adatta alla portata dei ritrovamenti, a cominciare dagli oricalchi affiorati dai fondali. Domenica mattina, Greco ha contattato personalmente il direttore del Museo Egnio Turco, si terrà una conferenza stampa pubblica proprio per presentare il progetto di ricerca e le attività di Hublot, rese possibili anche dalla capitania di Porto, retta dal comandante Roberto Carbonara, e dal gruppo locale Ormeggiatori Barcaioli, presieduto da Vincenzo Casciana. Il robot, nelle ultime ore, è stato testato nei fondali. Gli studiosi sono convinti che possano esserci ancora molti altri relitti di navi arcaiche, mentre quelli già recuperati sono ancora imballati dentro le casse, in attesa che il Museo del Mare, o altro spazio idoneo, possa metterli in mostra. Studiosi e tecnici regionali hanno riconosciuto anche davanti al neosindaco il merito del subacqueo Franco Cassarino, tra i pionieri dei primi ritrovamenti e che si è messo a disposizione per gli interventi di recupero. Almeno quattro ancore sarebbero già state individuate, anche se le condizioni del mare negli ultimi giorni non hanno consentito grandi spazi di manovra. All'incontro informale al museo c'era il presidente dell'Associazione Archeo Ambiente Giuseppe Alessi che ha spesso contribuito con donazioni alle attività di ricerca subacquea. Greco si è impegnato a dar manforte amministrativa. Sullo sfondo una comitiva di giovani turisti era in visita al museo, un'immagine quasi rara da immortalare.